Allora Marco, siamo nel vivo di questo torneo internazionale, il premio Tennis Europe qui a Tolentino, molta affluenza e soprattutto i buoni risultati fino ad ora espressi sui campi di gioco. Sì, abbiamo avuto una buonissima affluenza di pubblico perché poi il torneo è di altissimo livello, ci sono i migliori giocatori europei e under 16 e quindi il livello è veramente alto. Le persone stanno arrivando, stanno arrivando un po' da tutta Italia per vedere la manifestazione, poi i nostri soci sono sempre particolarmente presenti. Stiamo giocando i quarti di finale del singolare maschile e femminile e quindi siamo entrati un po' nel vivo della manifestazione, sono i primi otto giocatori del tabellone e faremo anche le semifinali del doppio. Venerdì andremo a fare le finali del doppio con le semifinali dei due singolari e sabato giocheremo le finali dei singolari. Grossi problemi non ci sono stati, il tempo ci ha assistito sempre perché è stata comunque una bella settimana, è caldo, c'è sole, i campi stanno tenendo bene nonostante il super lavoro a cui li abbiamo sottoposti perché stiamo giocando dalla mattina alle sette e mezzo fino alla sera alle nove, alle dieci. Però siamo veramente contenti perché poi l'organizzazione è andata via liscia senza problemi. Fino adesso speriamo di continuare negli ultimi giorni. Invito tutti a venire a vedere le partite perché adesso siamo veramente nei momenti decisivi del torneo e il livello è veramente alto. Finali quindi programmate nella giornata di sabato? Sabato probabilmente la mattina faremo le finali per dare la possibilità poi ai giocatori, soprattutto agli stranieri, di rientrare a un orario accettabile. Quindi normalmente i tennis europe di questo livello si concludono il sabato e il sabato mattina e quindi anche noi abbiamo deciso in accordo con il referee, con il supervisor, di concludere il torneo sabato. Venerdì ci sarà la finale del doppio, assegneremo ovviamente il titolo sia in doppio maschile che in doppio femminile e sabato faremo le due finali maschile e femminile. Speriamo, perché poi me lo auro, sono anche un pochino di parte da questo punto di vista, che la presenza dei giocatori italiani che fino a questo momento sono andati alla grande e continueranno poi ad andare avanti nel tabellone. Abbiamo anche dei giocatori marchigiani, molti giocatori marchigiani ancora in gara, questa dimostrazione che il nostro settore giovanile è veramente di altissimo livello. Speriamo che poi vadano avanti nel torneo.